I film di sabato di Coming Soon Television. Alle 10, lo scrittore Charles Bronson perde la testa per una studentessa sedicenne in Twinkie, diretto da Richard Donner. Alle 12, il compianto David Carradine è un giovane motociclista che raccoglie un ragazzino scappato di casa in California 437. Diretto dallo stesso Carradine, guardando a Easy Rider. Alle 23, una ragazza cerca di ritrovare il suo fidanzato ricoverato in un inquietante ospedale. È Autopsy, con Robert Patrick.